Gran parte dei pesaresi è stanca dell'andazzo di questa città che ultimamente purtroppo viene utilizzata da quelli che io chiamo politicanti e mi fa piacere notare che tanti cittadini ormai utilizzano questo termine che non è certamente offensivo ma intende politici che sanno usare bene il linguaggio della parola e quindi come gli incantatori dei serpenti utilizzando la lingua italiana tutto si può dire ma poco si fa. Quali sono i punti salienti che state cavalcando in questo momento? Ma allora sinceramente è proprio la maggioranza che ci dà la possibilità di cavalcare qualcosa perché a noi piace parlare di incompiute, di ricci ma non nel senso della destra. Incompiute perché sono state promesse tante cose. Basti guardare quello che era la sua pubblicità elettorale del 2013, siamo arrivati al 2024, di tante cose non è stato fatto nulla. Ex carcere, Bramante, Rocca Costanza non ha fatto nulla di tutto quello che ha proposto. Vogliamo parlare dell'amianto? Anche in tema di amianto Pesaro in realtà è stata bonificata quasi allo 0% e quindi non scordiamoci che il sindaco è responsabile della salute pubblica dei cittadini e l'amianto è altamente cargerogeno. Quindi in realtà non ci vuole tanto sforzo per riuscire a trovare qualcosa che non è stata portata avanti per i cittadini perché quello che è stato fatto è stato fatto solo per pubblicità personale e politica probabilmente perché come ho detto più volte c'è un anno di scopertura se non passa le elezioni europee quindi bisogna farsi pubblicità. L'elemento dell'ascolto ai cittadini è centrale nella vostra proposta una proposta che si costruisce proprio a partire dal comprendere, dal vivere quelle che sono le esigenze più pressanti in questo 2024? Assolutamente sì, per il semplice motivo che noi riteniamo che i cittadini debbano essere parte attiva della cittadinanza, della politica amministrativa in una città. Chi meglio di un cittadino conosce quali sono le problematiche del suo quartiere? In realtà noi quello che abbiamo notato e visto sinora è un'amministrazione che ha voluto tenere lontani i cittadini probabilmente per non far vedere quella trasparenza amministrativa che ci dovrebbe essere guardi, noi abbiamo, guardando un po' di documenti, abbiamo scoperto delle carte scottanti e adesso stiamo decidendo se mandarle in procura o meno. Meno di cinque mesi alle elezioni, nessuno di fatto ha esternato quello che sarà il candidato sindaco voi siete pronti a farlo? Noi lo faremo fra qualche giorno, sicuramente il candidato sindaco è una donna perché è il momento delle donne, perché le donne pensano meno alla pubblicità e più ai bisogni non scordiamoci che la donna è mamma, non scordiamoci che la terra è donna e quindi andiamo avanti con le donne. Grazie 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 Grazie